I stimoli che sono quelli di chi si hanno la spinta per scalare ancora più su e da questo per entrare la montagna. Perché oggi, purtroppo la situazione, come lo vedete tutti gli atleti che siete qua, stiamo battando ogni giorno. Ogni giorno per riuscire a trovare fuori il meglio di noi per riuscire a conquistare quello che amiamo, quello che vogliamo, quello che ci siamo proposti. Perché comunque abbiamo la forza, abbiamo il coraggio, siamo a più nelle qualità con quello che stanno facendo. E quello che stanno facendo deve diventare un virus, un virus che poi ci si deve propagare nelle scuole, nel radoro, nel campo. Poi ci deve trasmettere a tutti gli amici che abbiamo, i colleghi, i volontari. Siamo una città grande, siamo una città dove ci sono tantissime ammette, ci sono tantissime figure, ci sono tantissimi esempi.